Ciao, creatura. Io sono Ecate, splendente e benvenuta. Ho bentornata nel regno di Cosai e S M A. Allora, ho avuto due richieste. Due richieste di video. Una, un mouth sounds, che però non so se intenda questo o se intenda questo. Quindi le faremo entrambe. Dovete essere più specifici con le richieste, per quanto mi riguarda. Quindi, se non so se è una cosa o l'altra, le faccio entrambe. E l'altra richiesta è stata un inaudible. Allora, dato che potresti fare due video, ma dato che il mouth sounds... C'è un corvo fuori alla mia finestra. Un corvo? Non si sa, vabbè. Dato che il mouth sounds... I mouth sounds, vabbè. Non piacciono a nessuno sul mio canale, tranne la persona che me l'ha chiesto. A meno che non siano questo. Che è un'altra cosa. Che è un suono della lingua, più che della bocca. Però è fatto in bocca, quindi... È fatto con la bocca, diciamo, con la lingua. Però la lingua sta in bocca, quindi, in quel senso, ecco. E... Allora, dato che... Quando faccio i mouth sounds, quello che è... Ho, diciamo, un botto di commenti. È, ma senza il tuo whispering non riesco ad ascoltarlo, eccetera, eccetera. Mi manca il whispering. Dopo che hai 100 video con whispering, 2 mouth sounds, no? No, gli manca il whispering. Allora, ho detto, beh, fondiamo le tue richieste. Fondiamo mouth sounds. Con la lingua suona malissimo, questo cosa sto dicendo. Suoni prodotti con la bocca, diciamo. E... Eh... L'inaudible alternati. E... Così vediamo che cacchio ne esce. Visto che, insomma... Stiamo nel mese della... Degli esperimenti. Allora... Sperimentiamo, allora, no? Va bene, allora spero che i vicini mi permettano di... realizzare almeno 10 minuti di video. Eh... Io vorrei anche 15, anche una ventina, almeno da darti il tempo di rilassarti e dormire. E direi di procedere. «giungulare almeno della lettina». Io... E direi di questo il tempo di di сразу a prendere la letta. No lo sto... Gli... Mi... Mi... ... ... oh no ci ho spolverato tutto c'era della cipria mi vedi ancora? ci ho spolverato con la cipria c'era di giochi che v'ora da che poi in realtà accendono in audio un po' di motosounds esce quindi diciamo che un po' un po' un po' cioè così questo c'è pra sei prima 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 questa è stata la propria la propria la propria non sforzate a capire cosa sto dicendo perché non sto dicendo niente sapete no? faccio solo dei suoni ok? quindi voi non concentrati su niente, ascoltarli basta ok? la mia piccola e questo che ci mi ha fatto non c'è più non c'è più non c'è più Sì, 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 sì. Sì, 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 c'estti già c'est più difficile come here come here e l'on in odio poi mi devasta, mi fa bene, mi automedito su al naso ma l'ho detto l'ho detto l'ho detto in tutto il gusto l'ho detto l'hai detto l'ho detto l'ho detto e quindi ok ecco il vento il vento il vento no 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 oltretto 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 otretto sono questo è il caso di provare sono no, 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 no no, 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 no tattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt e quindi grazie a tutti come, 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 come spero che questo video ti abbia fatto rilassare io come sempre ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura